terza giornata spring cup galacticos contro la real tunisiana campione in carica grafico caspita rosati rosati grande rosati difensore ante rosati prima punta come prima punta sta succedendo già l'altro già non c'è spazio in difesa lo butto in avanti gioca gioca diamo uno ancora ma viene fermato da seccia numero 10 guardate maurizio soldatino di maio cosa combina pronto chiesto e gennaro gennaro sto facendo il video partita qui tutto ciò che dici verrà registrato in questa partita galacticos contro real tunisiana dimmi si no genna non possiamo proprio assolutamente no abbiamo i campi prenotati e all'otto poi figurati giovedì non meritano neanche il calcetto ma chissà come hanno dato il mercoledì solo per voi all'otto cioè siamo senza che dice venire qual mercoledì alle otto è un posto se non vengono domani non fanno più il torneo se c'è tipo covane vengo domande qua ho capito capito vabbò è vede voi fammi sapere va bene ok va buono ciao gennaro scusami tante ma capisci mi devi capire vabbò ciao 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 questo inter sta fottendo tutti e pure noi gratticos senza il capitano bilotto la difesa mi sembra sempre la stessa ci sono i fratelli olmo che è molto davasse cugini scusami grande tiro di seccia detto milito parata del portiere uccello ma ho capito che c'ha le ali bianca olmo alessandro e vanno i palloni vanno l'ultima eh l'ultima si che che bestia tavassi abbiamo uno si alza la palla da la chissà ronaldo finta ma rosati di fisico copre bene la palla aia l'orecchio non è fallo questo non è fallo questo va bene un attimo scusami dove ci siamo cos'era la scappetta di di mario come sto con te sto facendo il video ehheh vai mi falla cazzica non ci sanno dopo li riempiamo tutti insieme buono bianca vino seguilo vino dov'è vino le vesti vino le vesti vimo vieni 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 Giocano bene i Galatticos ma manca la punta, il movimento avanti che spiazza i difensori e crea lo spazio anche per i centri campissi per tirare la limite dell'Arabi, non vedo movimento, il portiere è Santo Nicola, anticipo di Olmo, Santo Nicola, di Mario, se c'ha chi ha il collegamento, bello questo momento di gioco, un saluto da Max e complimenti ai Galatticos e alla Real Tunisiana, ciao ragazzi